20 agosto 2021, una giornata storica a Novara. Si è dato vita in via del Carmine 1 dal nottaio Nicolo Cigliano al nuovo Novara Football Club di Massimo Ferranti. Un Massimo Ferranti molto emozionato che andiamo ad ascoltare. Ne ho tantissime emozioni, sono felice di averle. Ho vissuto un momento bellissimo, tranne quando ho dovuto fare tutta la parte burocratica, che è stata una tragedia, ma per il resto sono felicissimo. Mi sento vicino veramente tutta la città, cioè tante persone, tantissime, e sono felice di aver fatto quello che ho fatto. Ecco, la scelta di Novara come città e come partire col suo progetto di calcio, come è nata? È nata perché io sono cliente della Banca Ocolare Milano-Novara e mi hanno prospettato questa occasione, conoscendo il Novara, la squadra blasonata, i trofei e l'importanza di questa città. Tutta Italia è convinta dell'importanza di questa città, calcisticamente soprattutto. Ci sono saltato addosso. Il messaggio per i tifosi qual è? Il messaggio per i tifosi per me sono veramente la cosa più importante. e quindi non vedo l'ora di stare a contatto con loro. L'obiettivo? L'obiettivo è Serie C, primo campionato, subito.